Con una doppia seduta il Lecce prosegue la preparazione in vista del match di sabato prossimo a Parma, valevole per il terzo turno eliminatorio della Team Cup. Nessun problema per Moriero, ad eccezione di Diniza, le prese con problemi muscolari. In campo al Tardini, almeno all'inizio, dovrebbe partire comunque l'undici vittorioso a Terni, dove si è particolarmente distinto Stefano Salvi, il centrocampista autore del gol del 3-2 e utilizzato da Moriero nel 4-2-3-1 in tandem come centrale con Bogliasino davanti la difesa. Ci potremmo sposare bene, nel senso, mi piace avere vicino un giocatore che fa gioco, che si muove, che svaria e a me mantiene più la posizione. Classe 87, dopo una stagione cominciata a Treviso e finita a Sorrento, arriva a Lecce pronto ad abbracciare in pieno la filosofia della società sudore ed entusiasmo, conscio di un'occasione irripetibile. Sai che se bene o male fai un gran campionato, l'anno prossimo con le tue gambe ti ritrovi in Serie B, senza passare dal mercato né niente. E poi è stimolante sapere che comunque la gente vive di questo, a Lecce la gente vive per Lecce, e ti responsabilizza sicuramente di più. Sul fronte calcio-mercato, ufficializzato infine l'acquisto dalla regina, a titolo definitivo del centrocampista Fabrizio Melara.